Sono a Taranto Foggio, sono un casino di date e non vi preoccupate, non vi preoccupate, vi abbraccio tutti. Ciao Daniele, siamo bellissimo, stupendo. Allora, volevo dire una cosa molto importante, molto importante. C'è tanta gente, giustamente, che vuole sapere e vuole capire, anche se io ho scritto un post con il permesso degli autori, con il permesso degli autori che me lo hanno consentito di farlo. Allora, grande fratello, una grande esperienza, una grande emozione, una grande emozione a cui io voglio ringraziare la giornalista, la grande Anna Cicalese, che mi sta seguendo in questo grande cammino, in questo grande cammino del GF, una grande esperienza, che poi tutto ne vale grazie alla vostra, diciamo, tra virgolette, benedizione, benedizione dalla parte del pubblico, perché siete sempre voi a decidere. Allora, ciao Daniele, sei bellissimo, bravissimo, ti amo, volevo sapere quando viene a Napoli, presto. Allora, non posso svelare, non posso svelare tutti i segreti che stanno all'interno del nostro grande progetto, non posso dire altro, però con il permesso degli autori ho pubblicato gli scream per far capire a qualche scema, perché è solo uno scema, uno pallido, che io non ho fatto il provino come tanti altri, Daniele lo ha chiamato il grande fratello. Daniele De Martino ha tanti impegni, tanti concerti, scusatemi raga, tanti concerti, tanti teatri e tanti acconti presi. Quando si prende l'impegno con delle persone, soprattutto quando si tratta anche di bambini, però in genere con tutte le persone, bisogna rispettarle. Quando si percepiscono dei soldi prima, bisogna rispettarle. Da un giorno all'altro non puoi. Siccome ho avuto la possibilità di trovare all'interno di questa grande esperienza delle persone che mi stanno aiutando a non farmi marvolere da nessuno e a poter finire i miei impegni, allora farò sia l'utile che il divertevole. Grazie a tutti quanti, presto una mega notizia bomba, un bacio a tutti i concorrenti che stanno giocando attualmente nella casa e un bacio a tutti gli autori, perché sono veramente delle persone spettacolari, ma soprattutto che sanno fare molto bene il proprio lavoro e stanno facendo cose in grandi. Un bacio ad Anna Cicalese, un bacio ad Anna che io, è giusto che devo ringraziarla, che grazie a lei, grazie alle persone che gli stanno vicine, alle persone che gli stanno vicini che stiamo inseguendo questo grande progetto e come vi ho detto in un post, la valigia già è pronta, la valigia già è pronta, top secret, non posso dire altro, non mi fate domande, non vi dite niente, dovete solamente sapere e non vi preoccupate, so che avete mandato dei messaggini anche nel telefono di Barbetta, di Zosalvo, ama la comunione, ama l'impegno, state tranquilli, Daniele De Martino non è andato a giocare, a farsi il suo grande progetto e vi ha lasciato un asso, no, Daniele De Martino è qui, vi farà tutte le serate, questa stagione ve la farà tutte, dopo aver finito le tante serate, più di 300 serate, dopo aver finito ci sarà una grande sorpresa, prima gli impegni presi si devono rispettare, anche perché il gioco me lo permette, quindi voglio mandare un bacio a tutti quanti e soprattutto ringraziare tutte le persone che mi stanno vicine e mi stanno seguendo in questo lungo cammino. Grazie a tutti quanti, vi amo immensamente, presto ve lo faremo sapere noi quando accadrà il tutto. Però state tranquilli che nei vostri impegni non manchiamo. Uè, salutami alla tua pupetta, ci hai lanciato a portici, un bacio Anna Maria, un bacio.